Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qua su The Crew 2 e oggi, oggi, oggi c'è questa novità Nuova modalità di gioco, nuovo motor pass, nuovi veicoli e oggetti vanity Nuovo motor pass mi ispira un sacco E la modalità di gioco, non capisco cosa sia, ma bella la Z4 Allora, andiamo subito a vedere Panorama Ehm, cosa c'è di nuovo? Bello il Porsche, questo qua Questo è il... il bundle Che non abbiamo Vediamo, vediamo un po' cosa c'è di... che pacchetti ci sono Magari riusciamo a comprarci qualcosa Ed è un sacco che non porto video e spero di riuscire a portarli costantemente almeno un video a settimana Ho già pronto un video di The Crew, non so se vedrete prima quello o questo Allora, allora, allora Questo costa troppo Ne abbiamo, bella la Porsche Speedster Ha messo le autocabre, ho sentito Costa troppo Questo di BMW possiamo permettercelo tra un po' E... cosa c'è? L'M8 Bella E l'M5, l'M3, l'M4 ce l'abbiamo già No, allora niente Pezzi di ricambio, no Vanity, cosa c'è? A me mi servirebbero le luci da mettere sopra, ma costano troppo Invece, andiamo Perché io mi ero già preso dei veicoli belli Il Motor Pass, questo qua lo farò E procederemo Quella lì, ah, bella, la Bentley ce la dà gratis Cavoli, purtroppo non possiamo avercele queste E... l'altro Motor Pass per poco riuscivo a finirlo Tra 52 giorni abbiamo una marea di tempo L'ultimo Motor Pass era con i veicoli da fuoristrada Della polizia Vedete ci daranno questi 5000 gratis Almeno, meglio di niente E l'auto al 49 gratis ce la dà Quindi direi di metterci subito Ah, non ce la dà subito Ok, niente Ho sbloccato due auto belle Una è questa Porsche Carrera Si sta facendo Panamera Direi una la Ferrari che è prima La Ferrari vecchia Corvette dopo Ah, non ce l'ha messa qua Perché mi sa che è l'ultima E' questa qua E' questa qua Allora, io quasi quasi direi di farmi la Ferrari Però vorrei lasciarla un bel po' stock Quest'auto Lascerai il classico lì Paraurti anteriore No Lascerai questo I cerchioni Lascerai i suoi Colore pinsa Un bel rosso Ehm Alettone Ma Quasi quasi Cos'è che cambia lì? Alla parte lì è nera Alettone nero? O bianco? Nero Ok E poi Paraurti Bello questo Però l'auto E' fatto in quel modo Direi di lasciare quello bianco Classico C'era l'ultimo Non capisco cosa cambi Da questo qua prima Ah, c'ha la linea in più sopra No, cambia niente A vedere Magari il cavallino Cambia qualcosa Vabbè Lasciamo poi questo E gli interni Farei Gialli Belli Belli Materiali interni Quello Inserto interni Ok E fin qua ci siamo Quindi come colore Direi di far Andiamo su colore prima Bella rossa Bella rossa Eh Cos'è? Rosso Non ci dice Rosso Ferrari O anche grigio Non so perché Questo colore è stupendo Questo qua si Magari Oppure gialla Classica Sta bene Sta bene un po' Tutti i colori Alla fine Sapete Mi ispira un sacco Questo Il giallo Il grigio Il grigio si questo Se caso Però io quasi Dai Facciamola di questo colore E direi di provare a fare un attimo una cosa In pezzi decorativi A cambiargli lo spoiler Provare a vedere un po' come sta Con Questo Sta meglio No direi di lasciarla senza Direi di lasciarla senza Perché Abbiamo speso 20.000 Per fargli quella roba Ok E Gli pneumatici Metterei Ma no Gli lascerei su Questi qua Interception Fumo blu Le luci E i blu No dai Un po' una tamarrata Le luci E direi che il nostro veicolo Ce lo siamo fatto Ora Faccio le prestazioni E ci siamo Guardate che bella Mamma mia Ok eccoci qua Mamma mia che bella La nostra auto È venuta una bomba E devo capire un po' Cosa dobbiamo fare ora Perché non l'ho mai giocata Questa cosa Intercept Devo prendere Ah devo fare punti Più punti faccio Meglio Ok È una cosa Tipo di distruzione Ma l'aria Com'è Bella Grande Devo farne un botto Tipo Penso che sia Ok Lì non devo andare Interessante queste modalità Che continuano a mettere Comunque C'è Molto molto interessanti Ti rendono Ah l'obiettivo è quello Di arrivare al traguardo Ok C'è Cambiamo praticamente Tutto il gioco Però Non so se Si guadagna di più Arrivando in fondo O cosa Vediamo E facendo queste Queste sfide Si sbloccano obiettivi Per vincere poi La Quell'auto La Ventla Ecco Quella cabrio Però ci sono solo 100 punti Ragazzi Si vede niente Una cosa che dovrebbero Implementare Su sto gioco Sono appunto le luci Non si vede Praticamente Nulla Andiamo un po' Se saltando A saperlo saltavo di più 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 Che prendere le casse Cioè Guardate quanto ci do A prendere le casse Ci da solo 100 Ok Mi ha sbloccato L'obiettivo Ho visto il record mondiale Tipo 600.000 Infatti C'è Oh cavoli Non arriveremo mai Noi 600.000 Furgono in mezzo Alle scatole Altra rampa E ormai le rampe Abbiamo capito che Sono quelle che ci danno i punti Infatti anche nell'immagine C'era una rampa Siamo arrivati Siamo arrivati No ok È da sfondare tutto Sì non è che avremmo fatto Chissà quanto Però abbiamo superato Salto 800 metri Sempre sul podio Perfetto Vediamo la classifica Per curiosità Tipo Schifo Mancavano 600.000 punti Avremmo Battuto il primo Guardate che bomba La nostra auto Eh di notte si accendono anche Si aprono anche I Le luci Si aprono quelle lì sopra Però È Non stona Stona un po' è questo colore Giallo era più Si notava di più Però Non è male Adesso andiamo a vedere Il motor pass È questo qui E vedete Vince un evento street race Ci ha dato due Due gettoni E man mano si sale E praticamente Le sfide giornaliere Sono queste Vedete Queste qua Che Due Tre Quattro Cinque Volo ovunque In ogni momento Tipo Dovreste prendere un aereo E volare in giro Vince un evento Di rally cross Vince un evento Power boat Quindi con le In acqua Vince un evento Jet sprint Questo non so cosa sia Penso sia nel cielo Oppure Queste cose qua Da svolgere Entro Cinque settimane Ah disponibile Ok Per ora possiamo fare Soltanto Questa Che dura 52 giorni Possiamo fare Questa 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 Quindi cercherò Di farle subito In modo che Man mano Andiamo avanti E poi Alla fine Abbiamo La nostra Auto Questa qua La bellissima Bentley Che Sapete cosa vi dico Così quasi Andrei subito A cercarla Adesso No Andiamo su Bentley Eccola qua Ricompensa Motorpass No Non voglio andare Al Motorpass Ah ecco ci ha portati qua Meno male Che direi che Vediamo un po' 626 cavalli Stock Bella eh E vediamo un po' Le altre auto Interessanti Che ci sono Ah è una vecchia Ricompensa Del Motorpass Col Samy Non ci danno più Auto Cavoli Uh bella Bellissima Ricompensa Anche questa Del Motorpass Ah L'Inter L'Interception Interception Questo qua È È una bomba È una bomba Magari se hai soldi Potrei Prenderla Oppure si può Comprare anche così Tutta bianca Ci sta bene Anche questo colorino qua Vabbè Lasciamo il colore base Cerchioni Ok si può comprare Anche a parte Interessante No no ragazzi Ci sono parecchie Belle cose Anche qua Una ricompensa Questa qua Questa non l'avevo mica vista Questa non l'avevo ancora vista L'ha messa da poco Mamma mia Che bella Si ci sono un sacco di auto Che Boh Mai viste Anche questo qua E niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se così fosse lasciate un bel like Commentate Condirete Iscrivetevi al canale Se non è ancora fatto Noi ci vediamo prossimamente Con un nuovissimo video Anche questo è nuovo Wow Ciao a tutti E alla prossima Ciao a tutti